Ciao ragazzi, benvenuti sul set di The Last Day of December, una coproduzione tra IM2Factory, OpenMag e My Relative Pictures, di cui io sono in questo momento il rappresentante, lo sarei quasi sempre, però diciamo che questa è Veronica Renda, la nostra diretore in Gia, Veronica qua, stiamo preparando una scena importantissima, anzi, vai a lavorare, vai a lavorare, diciamo, questa idea è nata da una proposta, diciamo, ha fatto Salvatore Migliori, un'idea di lanciare una di quelle cose, no, stai dritto, guardate, guardate, di lanciare la domanda, diciamo che cosa fai a Capodanno, perché? Perché gli ultimi cinque giorni dell'anno ci si ritrova tutti quelli che non si sono preparati, si ritrovano a non sapere che cosa fare a Capodanno, la domanda più frequente, proprio anche di più di come stai, di più di che ha fatto la Roma stasera, è diventato che cosa fai a Capodanno, panico. Tu cosa farai a Capodanno? Mi guarderò il video, The Last Day of December, a rotella, fino a mezzanotte, finché poi è la fine... Scusi, dovremmo girare, sia pronto qua. Dobbiamo girare. Ok, silenzio e azione.